Domani c'è la partita che è chiave, la partita più importante, perché domani bisogna prendere tre punti. A Barcellona ci penseremo da dopo domani. Tra l'altro Barcellona non è né una finale, né una semifinale, né un quarto in finale, né un ottavo finale. È una partita che fa parte delle sedi, del girone che dobbiamo giocare. Un girone, secondo me, dove, prima cosa, l'obiettivo è passare il turno, come sempre, perché abbiamo visto che siamo arrivati il primo anno, il secondo, e siamo andati in finale. Il terzo anno siamo arrivati i primi e siamo arrivati in finale, quindi arrivare i primi e i secondi puoi avere forse qualche vantaggio nel sorteggio, perché magari puoi prendere una seconda un pochino più debole. Ma è anche vero, come è successo quest'anno, che ci sono tante seconde che hanno preso delle prime più debole, che ci sono dei gironi molto più semplici. Quindi noi bisogna concentrarsi sul passaggio del turno, che è l'obiettivo. Bisogna fare diversi punti, credo che nove punti per passare il girone basteranno. Per quanto riguarda il turno, l'ho detto prima, non c'è il turno, c'è il Chievo e dopo penseremo a col Barcellona.